Abbiamo parlato soltanto di avvisi di garanzia, problemi, polizze, tutte le varie cose E non abbiamo parlato di buche, sistemare la città, illuminazione, sicurezza Adesso passiamo altri mesi a parlare dello stadio, ma nel frattempo le buche, l'illuminazione, la sicurezza, i mezzi pubblici Fa tutto schifo, fa tutto schifo Andiamo avanti a parlare per mesi dello stadio, di cui a me, dello stadio della Roma, sinceramente, ma chi se ne frega